Ciao E benvenuti in una nuova puntata di Cucina Ledo Eh si, lo conduco proprio io questo programma Sai di cosa parleremo oggi? No, non parleremo di masturbazione Parleremo di fare un bel panino Ok, per fare un panino ci vuole Pane Roba piatto da infilarci dentro, in questo caso prosciutto E formaggio Preparazione Beh, in questo esatto momento taglieremo il pane No E' davvero squisito Ottenete due fette Che sembrano Lo richiede un conig Ora passiamo al formaggio Oh quanto è buono il formaggio Vi ricordo che dovete essere precisi Mi raccomando Fette pressoché così Ora il pezzo forte Il prosciutto Ok, non è proprio prosciutto Un prosciutto IGP di Norcia E del salamino Anderei di salamino E non perché l'ho aperto e sono pigro da aprire l'altro Oh merda, dimenticavo Ovviamente dovrete Tostare il pane Mentre le fette tostano a fiamma bassissima Perché Devono tostare bene Voi non vi fottete tutto il formaggio come ho fatto io Perché ora ne è rimasto poco Perchè non ti apre stalesci? Guardalo Pezzo di merda Adesso inquadratura da cucina con musichetta figha Ah porca putta No No Anche il pane è pronto E' ottimo Il panino era presto che ottimo Si sentiva il salato Il pane al tartufo Il formaggio Il pane Le mani che non mi sono lavato Era buonissimo Fatelo anche voi E ditemi com'è Al prossimo episodio